la fase pandemica, in quanto quando essa è iniziata lui è sostanzialmente entrato nell'ambito del corso di specializzazione di medicina interna. Il mio reparto è stato uno dei reparti Covid dell'azienda ospedaliera Cannizzaro e nell'ambito di questa tesi si parlerà sicuramente di questo rapporto di collaborazione nell'ambito di uno studio multicentrico che c'è stato tra il mio reparto e il reparto della medicina d'urgenza dell'ospedale San Marco, dove sono stati ricoverati anche lì per un lungo periodo dei pazienti Covid. Alla ricerca del ruolo di biomarcatori potessero essere predittivi della prognosi di questi pazienti. Non dimentichiamo che soprattutto nella prima fase della pandemia non si capiva come si dovesse diagnosticare precocemente lo stato di malattia sulla base del rischio che questi pazienti avessero di entrare in un reparto di rianimazione. Matteo ha lavorato molto sulla disamina di alcuni di questi biomarcatori che sono presenti nel sangue nell'ottica di identificarne alcuni che fossero particolarmente predittivi della evoluzione clinica di questi pazienti e soprattutto dell'aggravamento che poi li potesse portare in rianimazione dove ovviamente la prognosi di questi pazienti molto spesso poi diventa in fausta. Quindi se il Presidente è d'accordo per me possiamo dare la parola al candidato per l'esposizione della tesi. Buonasera a tutti, ringrazio intanto il Professore Malatino, mio relatore, per la disponibilità e per la presentazione e anche il Dottore Sambadaro per la disponibilità in quanto controrelatore e ovviamente la Commissione tutta, in particolare il Professore Giuseppe Angirella. Presenterò questa tesi, questo lavoro dal titolo Il rapporto di notrofili e linfociti come fattore predittivo di mortalità e ingresso in terapia intensiva nei pazienti con Covid-19. Però una brevissima introduzione sulle caratteristiche principali dell'infezione da SARS-CoV-2 partendo da un punto di vista epidemiologico. Come possiamo vedere dall'infografica qui sulla sinistra che è derivata da un report della WHO del dicembre 2022, l'infezione da SARS-CoV-2 ha avuto una diffusione capillare in tutto il mondo. Basti pensare che a poche settimane, a pochi mesi dalla dichiarazione dello stato di pandemia nel marzo 2020 avvenivano numerosità di casi di polmonite già dopo pochi mesi. Nel dicembre 2022 infatti si registravano 650 milioni di casi totali con più di 6 milioni e mezzo di decessi. In Italia la situazione comunque è stata abbastanza similare, soprattutto il case fatality rate, cioè il rapporto tra i decessi di soggetti che sono stati diagnosticati in un'intera popolazione nello stesso periodo di tempo, diviso il numero di casi diagnosticati dell'infezione da SARS-CoV-2, mostrava un andamento davvero grave soprattutto all'inizio della pandemia con un CFR, un case fatality rate che si attestava quando si considerava come tasso standardizzato al 6,6%, ma se andiamo a considerare la fascia di popolazione che va dai 65 ai 90 anni, soprattutto uomini, il case fatality rate si alzava addirittura arrivando oltre il 15%. Questo un po' per capire la gravità dell'impatto che ha avuto l'infezione da SARS-CoV-2 sulla popolazione mondiale. Andando un po' alla storia naturale per descrivere un attimo anche quali sono le caratteristiche di questo virus. Il SARS-CoV-2 appartiene alla famiglia di coronaviride, dei suoni di virus ad RNA che sono deputati ad infezioni soprattutto del tratto respiratorio ma anche gastrointestinale. In particolare il SARS-CoV-2 utilizza, così come tutti gli altri coronavirus, un recettore che è l'enzima di conversione dell'angiotensina 2, il cosiddetto appunto ACE2. Utilizzando questo recettore internalizza all'interno della cellula e poi avvengono le fasi di replicazione virale e infine la dismissione in circolo dei virioni. La particolarità di questo enzima è che si trova principalmente a livello delle cellule dell'epitelio polmonare, dove svolge una funzione protettiva nei confronti appunto dell'epitelio polmonare, ma la cosa particolare è che si trova anche diffuso a livello anche ubiquitario, diciamo, soprattutto a livello delle cellule endoteliali. Questo spiegherebbe in parte anche le manifestazioni disseminate che sono tipiche del Covid-19. Una piccola precitazione per capire anche perché ci sono delle differenze di genere e di età all'interno dei pazienti con infezioni da SARS-CoV-2. Infatti ci sono delle differenze soprattutto nelle donne. Nelle donne gli estrogeni in unità fertile hanno una funzione protettiva anche sull'enzima di conversione dell'angiotensina 2, determinando una maggiore produzione in corso di infiammazione o infezione. Cosa che avviene invece in maniera inversa nell'uomo, dove gli androgeni in corso di infezione e infiammazione determinano una riduzione dell'espressione dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2. E inoltre nelle donne, cioè si spiega anche perché è più espresso nelle donne, perché è codificato dal cromosoma X, in particolare in una regione che non subisce il fenomeno della inattivazione casuale. Con l'avanzare dell'età invece dall'altra parte succede che appunto si riduce l'espressione dell'enzima di conversione dell'angiotensina 2 e aumenta il pathway proflogistico ACE angiotensina 2. Da un punto di vista fisiopatologico possiamo riconoscere, da come si vede in questo grafico, principalmente tre fasi di malattia. Una prima fase in cui avviene l'infezione virale e c'è una prima risposta immunitaria che si trasforma e si determina appunto la prima fase di sintomatologia o assenza di sintomatologia con sintomi che sono principalmente influenzali quindi del tratto respiratorio. Successivamente avviene una seconda fase in cui la risposta immunitaria non riesce a vincere diciamo la replicazione virale e avvengono i primi danni sul tessuto polmonare in primo luogo con l'insorgenza della polmonite. Questa risposta immunitaria se non è efficace nel contrastare la replicazione virale continua in una fase di risposta infiammatoria sistemica che è determinata principalmente dalla cosiddetta tempesta di citochine, una serie di molecole che si trovano in circolo che determinano il richiamo di altre cellule effettrici dell'infiammazione che si traduce alla fine in una risposta infiammatoria sistemica incontrollata, che è proprio la caratteristica delle fasi più gravi dell'infezione della SARS-CoV-2. Sappiamo infatti che nella risposta all'infiammazione sia ad un agente patogeno che ad altri agenti come avviene per esempio nelle patologie neoplastiche, nelle patologie neurodegenerative o nelle malattie cardiovascolari vi sono degli attori che sono coinvolti appunto nel richiamo di cellule che sono fondamentali per andare a sconfiggere appunto l'agente patogeno. In particolare abbiamo il TNF-alfa, l'interleuchina 2, l'interleuchina 1, l'interleuchina 6 eccetera. Ma quello che ci interessa principalmente è il ruolo che viene svolto proprio a livello appunto della risposta immunitaria da parte di neutrofili e linfociti. I primi infatti sono deputati della risposta immunitaria innata, i secondi invece sono coinvolti nella risposta immunitaria adattativa. Quello che succede nel SARS-CoV-2, ma non solo perché succede anche in tutte le condizioni di iperinfiammazione sistemica con appunto caratterizzate da tempeste citochiniche, è che ci sono una serie di cambiamenti che determinano la neutrofilia e la linfopenia. Due situazioni che ovviamente portano a una disregolata risposta del sistema immunitario dell'individuo nei confronti dell'infezione e che non fanno altro che far perdurare l'infezione a lungo termine. Questi meccanismi sono determinati da un'attivazione prolungata dei neutrofili e in maniera eccessiva rimangono in circolo per lungo tempo. Le citochine che vengono prodotte bloccano l'apoptosi e riducono la rimozione dei residui apoptotici. Queste citochine proinfiammatorie inoltre sono in grado anche di produrre dei fattori di crescita dei granulociti in particolare, quindi determinando un aumento della produzione in toto dei neutrofili. Dall'altro lato invece abbiamo la linfopenia. I linfociti sono coinvolti appunto nella risposta immunitaria adattativa e essendo uno stimolo infiammatorio che continua e che perdura nel tempo si determina a un certo punto il meccanismo di cosiddetto esaurimento in cui i linfociti T sono in numero ridotto e quelli che ci sono sono iperattivati e vanno incontro molto facilmente ad apoptosi. Infatti gli stessi linfociti appunto esauriti insieme alle citochine proinfiammatorie che sono in circolo determinano una down regulation della produzione dei linfociti, un sequestro a livello degli organi bersaglio e poi l'inversione granulocitare, cioè lo shift della produzione da parte del midollo osseo verso la linea neutrofilica piuttosto che quella linfocitica. Quindi per andare a studiare lo stato infiammatorio di un paziente sia per diagnosticare lo stato di infiammazione che per studiare le malattie, per avere degli indicatori di prognosi e per utilizzarli come monitoraggio della risposta clinica dopo interventi terapeutici vengono utilizzati alcuni parametri biomarcatori che sono già riconosciuti in letteratura e vengono spesso appunto utilizzati, quali la proteina C reattiva, l'interlochina 6, il fibrinogeno e il didimero. Però da alcuni anni nasce l'esigenza di cercare uno strumento che sia più correlato alla risposta immunitaria piuttosto che semplicemente alla risposta infiammatoria acuta e in questo come abbiamo detto precedentemente giocano un ruolo fondamentale i neutrofili e i linfociti ed è il motivo per cui il rapporto neutrofili e linfociti ricopre un ruolo fondamentale da questo punto di vista perché va a determinare e a categorizzare la risposta immunitaria sbilanciata con appunto la neutrofilia e la linfocitopenia. Il rapporto neutrofili e linfociti si determina semplicemente come un rapporto tra la conta assoluta dei neutrofili e la conta assoluta dei linfociti. Il rapporto neutrofili e linfociti è già stato studiato nel tempo e negli anni, in letteratura sono numerosi gli esempi di utilizzo appunto in termini di indice prognostico di peggioramento di malattia. Viene utilizzato nelle patologie neoplastiche, il nostro gruppo ha fatto anche un lavoro sulla polmonite acquisita in comunità in confronto ad altri score prognostici già validati oppure viene utilizzato in condizioni di flogosi cronica e continua come avviene per esempio nell'aterosclerosi quindi può essere utilizzato anche nella malattia cardiovascolare. In questo contesto si inserisce il nostro studio che ha come scopo quello di valutare il ruolo prognostico del rapporto neutrofili e linfociti in pazienti ricoverati in setting ospedaliero per infezione da SARS-CoV-2. Ci siamo posti due end point, un end point primario che era la mortalità intraspedaliera e un end point secondario che era il ricovero in regime di trattamento intensivo. Da un punto di vista puramente di struttura del disegno di studio si tratta di uno studio retrospettivo osservazionale multicentrico, infatti è stato condotto come diceva prima il professore Malatino su due unità operative, l'unità operativa della medicina d'urgenza del presidio ospedaliero San Marco e della medicina Covid dell'azienda ospedaliera Cannizzaro. Sono stati utilizzati numerosi criteri di inclusione ed esclusione, motivo per cui dei 512 pazienti che erano consecutivamente ricoverati tra settembre 2020 e maggio 2021 presso queste due unità operative, di questi 111 sono stati esclusi per patologie croniche che modificano la conta leucocitaria e regimi terapeutici cronici che modificano la conta leucocitaria. Quindi alla fine erano 411 i pazienti arruolati. Qui emerge già un primo punto di forza di questo studio perché è il primo studio che ha selezionato una coorte che fosse priva di soggetti con condizioni diverse dal Covid-19 che potessero inficiare proprio sul rapporto neutrofili-linfocili. I dati sono stati raccolti all'ammissione, al giorno mediano di degenza e alla dimissione, sono stati raccolti dati anagrafici, biochimici, emocromocitometrici, emogassanalitici, l'anamnesi patologica e l'anamnesi farmacologica. Sono stati calcolati poi i markers di flogosi derivati, il rapporto neutrofili-linfocili come abbiamo già detto, così come il rapporto piastrini-linfocili e il rapporto neutrofili-linfocili derivato che è semplicemente al numeratore un numero di neutrofili e al denominatore la differenza tra la conta leucocitaria totale e il numero di neutrofili. Sono parametri che sono stati già studiati ultimamente, fanno parte diciamo della letteratura attuale. Da un punto di vista statistico il campione è stato suddiviso in terzili secondo il range di NLR in cui il primo terzile di NLR era caratterizzato da pazienti con basso NLR, mentre il terzo quelli con più alto NLR. Sono stati comparati NLR, DNLR, PLR e PCR dei pazienti Covid-19, sono state costruite le curve ROC per determinare le soglie predittive per questi biomarcatori ed è stato valutato il loro valore prognostico attraverso modelli di regressione di COX multivariati. È stata inoltre analizzata la correlazione tra PF e NLR e sono state accertate direzione e forza di questa correlazione attraverso il coefficiente di correlazione per ranghi di Sperman. E poi è stata effettuata un'analisi di sopravvivenza mediante lo stimatore di Kaplan-Meyer per valutare il raggiungimento degli end point previsti dallo studio. Passando alla statistica descrittiva, in tabella ci sono le principali caratteristiche della popolazione con i dati biochimici, clinici e anagrafici dei pazienti. Nella prima colonna troviamo la popolazione totale, nelle colonne successive sono suddivise per terzili di NLR, quindi primo terzile, secondo terzile e terzo terzile. Da un punto di vista della statistica descrittiva sempre possiamo vedere questi grafici di distribuzione dei valori mediani che vi sono alcune caratteristiche che possiamo dire di questa popolazione. Intanto l'età mediana era di 72 anni e aumentava in modo statisticamente significativo dal primo al terzo terzile. Da un punto di vista dei dati ematochimici, abbiamo raccolto chiaramente tutti quei dati, qui rappresentati ci sono soltanto quella della PCR, della conta totale dei bianchi e possiamo vedere che sia per la PCR che per la conta totale dei bianchi ma anche per DNLR e PLR vi era un aumento statisticamente significativo dal primo al terzo terzile. Quindi più aumentava il valore DNLR, più la PCR era elevata, più la conta totale dei bianchi era elevata, più il DNLR era elevato e così via. Al contrario invece il PF, nell'ultimo grafico di distribuzione, vediamo che ha un trend opposto, infatti diminuisce via via che si passa dal primo al terzo terzile in modo statisticamente significativo. Inoltre riguardo i dati delle comorbilità di questi pazienti non si osservava nessuna differenza significativa a carico delle comorbilità e poi alla fine dello studio vedremo anche di dare una spiegazione a questa cosa. Passando alla statistica inferenziale, parlando del primo endpoint, della mortalità introspedaliera, è stata costruita una prima curva ROC con il rapporto neutrofili-linfociti espresso come variabile continua che ha descritto un buon potere predittivo. Infatti il best cutoff di NLR stabilito dall'indice di Juden a 11,38 aveva una sensibilità del 72% circa e una specificità del 73%. Questo è il grafico della curva ROC. Andando al confronto tra le curve ROC di NLR, DNLR, PCR e PLR il rapporto neutrofili-linfociti mostra la più ampia area sotto la curva seguiti poi da DNLR, PCR e PLR. La differenza tra le aree sotto le curve di questi parametri era statisticamente significativa. È stata poi condotta l'analisi di sopravvivenza secondo Kaplan-Meyer con il test dei ranghi logarittimi ci mostra una differenza statisticamente significativa nei tempi di sopravvivenza. Infatti possiamo vedere che dal primo al terzo terzile c'è una riduzione dei tempi di sopravvivenza. A questo punto siamo passati ad analizzare questi dati per capire se ciò che avevamo trovato fosse influenzato da un qualche bias o qualche errore o se correggendo invece per alcuni fattori questi errori non ci fossero. Infatti abbiamo costruito dei modelli di regressione di COX. La regressione di COX è un modello di regressione multipla che serve per avendo diciamo un fattore di rischio che in questo caso è il rapporto neutrofili-linfocili capire quale sia il rischio che avvenga l'evento che si sta studiando in questo caso la mortalità introspedaliera correggendo per dei fattori delle covariate che in questo caso sono sesso ed età nel modello 1 e principali comorbidità e PF nel modello 2. Quello che abbiamo trovato è che il rapporto neutrofili-linfocili intanto è indipendentemente correlato al rischio di gravità e di mortalità introspedaliera quindi con l'azzo del ratio crudo andando a controllare a vedere invece i due modelli nel modello 1 per un incremento di un'unità di devezione standard di NLR si assisteva a un aumento della mortalità del 45% nell'intero campione nel modello 2 aggiustato per comobilità e PF per un incremento di un'unità di devezione standard di NLR si assisteva a un aumento della mortalità del 59% a questo punto passiamo all'end point secondario che è il trasferimento in terapia intensiva è stata costruita anche in questo caso una seconda curva ROC per il rapporto neutrofili-linfocili espresso come variabile continua l'indice di Juden ha stabilito in 8,21 il best cut-off per predire la missione in reggimento intensivo c'è da dire però che il confronto tra le curve ROC di PCR PLR di NLR ed NLR nella popolazione che è andata incontro a trasferimento in terapia intensiva non ha mostrato differenze significative tra le aree sotto la curva anche in questo caso è stata costruita un modello di regressione di COX in questo caso sono stati costruiti tre modelli uno aggiustato per sesso ed età uno per comorbilità il terzo per il PF che forse ne ho detto prima è il rapporto tra persone parziale di ossigeno e frazione di ossigeno ispirata che è ottenibile abbastanza semplicemente da un'emogas analisi e ci permette di comprendere il stato del compenso respiratorio in questi pazienti ovviamente con la polmonite quello che abbiamo visto è che quando il rapporto neutrofili-linfocili prevedeva il rischio di ricovero in regime di trattamento intensivo indipendentemente delle caratteristiche demografiche delle comorbilità però quando nel modello quindi nel terzo modello veniva inserito il PF l'associazione indipendente di NLR e trasferimento in terapia intensiva scompariva anche per questo caso anche in questo caso andremo a spiegare dopo il perché a questo punto ci siamo chiesti quale potesse essere un legame tra il PF e NLR e abbiamo condotto un'analisi di regressione lineare che ha mostrato una correlazione inversa tra NLR e PF al momento del ricovero qui si può vedere anche graficamente quindi al diminuire del PF c'era un aumento del NLR con un indice di correlazione di sperma di 0,39 coefficiente infine è stato analizzato l'andamento dei due principali biomarker presi in esame il rapporto sono trofili linfociti e la PCR che sono stati registrati in tre intervalli di tempo al primo giorno al giorno mediano di degenza e all'ultimo giorno nel primo grafico abbiamo la popolazione totale nel secondo grafico la popolazione che è andata incontro a morte nel terzo grafico invece la popolazione che è andata incontro a trasferimento in terapia intensiva quello che possiamo vedere è che vi è soprattutto guardando la popolazione generale che vi è un andamento lungo il corso dell'adegenza verso la riduzione della PCR con una contemporanea invece aumento del rapporto neutrofili-linfociti che si accentua ancora di più nella popolazione che è andata incontro a decesso dove possiamo vedere che hanno uno stesso andamento ma molto più marcato con una riduzione molto più marcata della PCR e un aumento molto più marcato del rapporto neutrofili-linfociti cosa differente invece avviene nei pazienti che sono andati incontro a trasferimento in terapia intensiva dove i valori di PCR all'ingresso sono molto più elevati e addirittura aumentano e anche in questo caso il rapporto neutrofili-linfociti aumenta esponenzialmente durante il corso dell'adegenza andando alle conclusioni quindi abbiamo individuato nel rapporto neutrofili-linfociti un buon indice di predizione appunto di rischio di mortalità intraspedaliera soprattutto con un cutoff individuato a 11,38 dalla curva ROC al confronto anche tra le curva ROC quindi questo cosa significa che i pazienti con un rapporto neutrofili-linfociti più elevato hanno un rischio significativamente maggiore di mortalità intraspedaliera e di progressione della malattia fino a uno stadio anche di severità tale da richiedere il trasferimento in terapia intensiva rispetto invece ai pazienti che hanno un rapporto neutrofili-linfociti al di sotto del cutoff stabilito attraverso la curva ROC quindi come abbiamo già detto prima il discorso sulla neutrofili e la linfopenia il rapporto neutrofili-linfociti riflette proprio l'equilibrio tra le risposte immunitarie innata e la risposta immunitaria adattativa e quindi non è soltanto un indice di infezione e infiammazione ma aumenta anche in qualsiasi causa di stress fisiologico e nella nostra popolazione che è caratterizzata appunto dalle fasi più gravi di malattia da SARS-CoV-2 riflette in qualche modo appunto lo squilibrio tra lo stato infiammatorio e la risposta immunitaria sia innata infatti come abbiamo detto prima dopo i modelli di regressione di COX per un incremento di un'unità di NLR è significato un aumento della mortalità che andava dal 45 al 59% nei due modelli per quanto riguarda il secondo endpoint il trasferimento in terapia intensiva e il rapporto neutrofili-linfociti è associato in modo indipendente al ricovero in terapia intensiva però questa associazione scompare quando viene eseguita una correzione per il PF questo cosa vuol dire l'abbiamo visto anche prima con la correlazione inversa che hanno NLR e PF che essi sono coinvolti nella stessa catena patogenetica dove l'impatto dell'infiammazione che è rappresentato proprio dai cambiamenti dalle verrazioni del rapporto neutrofili-linfociti è diciamo statisticamente catturato dal conseguente peggioramento funzionale dell'insufficienza respiratoria che è caratterizzabile attraverso il PF che si ottiene semplicemente dall'emogastanalisi e infine l'andamento sincrono di NLR e PCR che sono entrambi elevati nelle prime fasi di malattia ma poi il rapporto neutrofili-linfociti aumenta ulteriormente in seguito soprattutto nei pazienti deceduti a fronte di una riduzione della PCR questo invece non avveniva nei pazienti che erano trasferiti in trepe intensiva probabilmente perché c'è uno sbilanciamento ulteriore del rapporto tra infiammazione e risposta immunitaria concludendo quindi il rapporto neutrofili-linfociti rappresenta uno strumento rapido facilmente disponibile e relativamente poco costoso ottenibile molto semplicemente nel setting dell'urgenza in pronto soccorso attraverso un esame emocromo-citometrico ed è utile nella gestione e nella stratificazione del rischio dei pazienti con Covid-19 al fine di poterli trattare nella maniera più adeguata possibile per un eventuale trasferimento in setting intensivo oppure per un'adegenza ordinaria per concludere ancora una volta il nostro studio ha dei punti di forza dei punti di debolezza da un punto di vista dei punti di forza si tratta di uno studio multicentrico condotto appunto su due unità operative sono stati utilizzati dei rigorosi criteri di esclusione l'anamnesi farmacologica l'anamnesi patologica le patologie concomitanti si tratta del primo studio che ha escluso una parte di popolazione che presentava un valore di rapporto neutrofili-linfociti già alterato all'ammissione quindi questo avrebbe inficiato sulla statistica generale e poi ci sono numerosi caratteri di novità perché per la prima volta viene utilizzato il rapporto viene diciamo studiato il rapporto neutrofili-linfociti come predittore di mortalità e di ricovero in terapia intensiva indipendentemente dalle comorbidità e a questo mi collego quando nel punto di debolezza diciamo di popolazione omogenea perché per quanto da un punto di vista statistico la popolazione omogenea potrebbe essere un rischio ai fini del risultato finale in questo caso potrebbe invece essere un punto di forza perché la maggior parte degli studi che sono stati condotti su pazienti con infezioni da SARS-CoV-2 comprendevano soggetti che erano ricoverati in regime appunto in setting ospedaliero possibilmente soltanto perché erano positivi a SARS-CoV-2 ma contemporaneamente non avevano una condizione di flogosi sistemica alterata in questo caso invece essendo pazienti che sono stati ricoverati in due reparti che erano due reparti di semi-intensiva praticamente la popolazione appunto è abbastanza omogenea e quindi il confronto regge ancora di più un altro punto di debolezza chiaramente è il fatto che lo studio è uno studio retrospettivo pur essendo appunto multicentrico però saranno necessari ulteriori studi prospettici per poter validare i dati considerando anche il fatto che questo stesso parametro potrebbe essere utilizzato non soltanto nell'infezione da SARS-CoV-2 nel Covid-19 grave ma anche in tutte quelle condizioni che sono appunto caratterizzate da uno stato di infiammazione sistemica che perdura nel tempo concludo con questo abstract grafico che ho utilizzato per presentare l'articolo quando è stato pubblicato insomma abbiamo appunto inizia con l'infezione da SARS-CoV-2 che poi in alcuni casi in pochi casi per fortuna si manifesta poi con una eccessiva e sostenuta risposta immunitaria che poi è la base appunto della tempesta citochinica tipica dello stato infiammatorio sistemico e poi qui appunto passiamo al nostro studio quindi utilizzando il parametro dell'NLR con il cutoff di 11,38 possiamo andare a definire un elevato rischio di mortalità in questi pazienti e quindi in questi casi è necessario diciamo modificare il trattamento e il monitoraggio e il management di questi pazienti al fine di poterli trattare nel modo più adeguato possibile grazie grazie a tutti grazie a tutti